Fate i bravi, fate i bravi, non fate come al solito. Storia, cultura, attualità, politica affrontati con quell'idea, quel pensiero pungente ma moderato del Barone Colucci. La cultura è la base della vita dell'uomo. L'eccellenza merita rispetto, considerazione, attenzione. Non possiamo non parlare di cose importanti che riguardano il popolo, che riguardano i cittadini, le persone che oggi si lavorano e si sacrificano. Bisogna dare sicuramente un'importanza alla cultura della popolazione, della cultura civica. Perché il Barone Colucci, Tino? Perché il Barone Colucci? Capitano di impresa di lungo corso, 83 anni all'anagrafe, 55 anni proprio quest'anno della sua Plastic Puglia e poi esperienze in tutto il mondo, in Marina, 10 anni. Quindi chi, meglio del Barone Colucci, può esprimersi su temi che incidono anche fortemente sulla vita di ciascuno di noi, sulla vita del popolo italiano? Il mio è stato un percorso, se vogliamo, illuminato da Dio. Perché sin da piccolo ho avuto sempre delle belle attenzioni nate che poi hanno portato a una crescita corretta e piano piano si è sviluppata fino a diventare presidente di un grande gruppo industriale che è la Plastic Puglia. Un percorso corretto, perfetto, diciamo progressivo e produttivo. Il Barone Colucci, anche perché, Barone, ci consenta, sono le mani di un lavoratore, di uno che se neanche sporcate lavorando, quelle mani, in modo tale da poter avere un punto di vista sempre originale, diverso e controcorrente. Barone, le aspettative sono altissime, noi ci aspettiamo che i suoi interventi siano davvero pungenti. Già a 12 anni mio padre mi fece il libretto di lavoro e da allora ho studiato, ho lavorato e ho progredito. E spero che anche questa rubrica possa conseguire gli stessi risultati, me lo auguro. Non abbiamo alcun dubbio, quindi popolo di Quinto Potere, popolo italiano, restate sintonizzati su tutti i nostri social, sul nostro sito quintopotere.it perché sui temi che sono cari a voi avrete un'opinione diverso, spesso controcorrente e con soprattutto delle proposte concrete per vivere meglio sotto ogni punto di vista. A breve da quintopotere.it e dal Barone Colucci. Rivolgo un saluto a tutti coloro che avranno il piacere di ascoltarci. Un saluto di cuore, un saluto che possa dare a loro il sentimento dell'amore, dell'affetto e del progresso civile. Fate i bravi, fate i bravi, non fate come al solito.